Io sono Mauro Lomeo, ho quasi 48 anni, sono in Omnitex ormai dal 1998, quindi abbiamo quasi 30 anni. Sono responsabile amministrativo, la nostra forza è quella di essere sempre reattivi ed essere sempre a conoscenza di tutti gli aspetti fondamentali dell'azienda. A piedi corro, in auto mi sposto, in moto sogno. Essendo appassionato di moto, l'idea di guidare una moto per lavoro mi sarebbe piaciuto. Siamo sempre di corsa, quindi cosa di meglio è che una moto per correre e per sognare soprattutto. I social che stanno irrompendo anche nel mondo del lavoro, i vantaggi sono assolutamente innegabili. Essere a conoscenza anche di alcuni aspetti della vita privata, delle persone con cui si lavora o con cui si ha a che fare, avvicinare le persone sostanzialmente. Alla fine sul lavoro ci passi la metà della tua vita, quindi se non ci fossero delle persone piacevoli con cui stare a livello del lavoro, le giornate sarebbero molto più lunghe. Il cliente migliore è quello che comunque rispetta la reciprocità del rapporto comunque col fornitore, quello che comunque apprezza il lavoro che viene fatto. Quello peggiore? Ma no, ma non esistono clienti peggiori. Grazie! 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 Grazie a tutti